Si prepara a Gela la mobilitazione generale dell'area industriale di Contrada Piana del Signore prevista per il 20 gennaio prossimo. Affrontiamo l'argomento degli incontri al Mise e della drammatica vicenda Vertenza a Gela con il vice sindaco Simone Siciliano. La programmazione di chiusura di anno prevedeva che a gennaio ci fossero diversi incontri tra il Ministero, Eni e poi di volta in volta le regioni, i sindacati e le amministrazioni comunali in cui Eni inzeda le proprie attività proprio per chiarire da un lato la posizione di Eni di voler continuare a investire sul territorio nazionale e nel nostro caso sul territorio gelese che è stato comunque più volte confermato, dall'altro invece la volontà dei Ministeri di far sì che Eni possa continuare a investire sul territorio. Per quello che ci riguarda noi abbiamo un incontro giorno 20 mattina a Roma al Ministero e è auspicabile che ci sarà anche la Vicari e il Ministro Guidi per discutere delle strategie nazionali sul territorio di Gela in merito all'accordo di programma. Stiamo provando a contestualizzare giorno più giorno meno anche l'incontro di verifica sul protocollo d'intesa che si incastra di altri incontri che stiamo effettuando con Eni proprio per le attività diversificate che la stessa Eni vorrà implementare all'interno dell'area della refineria in alternativa a quello che è stata l'economia di base. Assessore, nonostante il terremoto che è accaduto all'interno del Movimento 5 Stelle la vostra azione amministrativa continua su diversi fronti? Sì, un'azione amministrativa non si è mai fermata di fatti. La logica di questa amministrazione è quella di concertare con tutto il Consiglio Comunale fin dal primo giorno le azioni programmatiche che competono anche al Consiglio Comunale ai singoli consiglieri per lo sviluppo del territorio a 360 gradi. Non è cambiato l'assenso o meno a favore di questa amministrazione di 4 o 3 consiglieri comunali perché di fatti il cambiamento che questa amministrazione vuole rappresentare è legato semplicemente al fatto che nessuna logica politica di tipo gerarchico può condizionare le scelte dell'amministrazione per il bene della città. Ho ripetuto più volte che noi non ne vogliamo fare una battaglia ideologica o di colore politico perché gli unici colori che vogliamo difendere sono quelli del territorio gelese. Si continua quindi a lavorare su diversi fronti. Tra le sue competenze specifiche c'è proprio quella dell'ambiente. Sì, proprio in materia di tutela ambientale stiamo cercando di migliorare il parco tecnologico delle centraline di monitoraggio sia in termini di quantità che di qualità imbiandistica. I dati di queste centraline ci permetteranno di capire anche la ricaduta delle polveri sottili dovute alla viabilità classica presente in città e proprio in merito a questo argomento stiamo cercando di concertare con l'assessore Catania tutta una serie di azioni per mitigare le difficoltà che possono insorgere dalle stringenti misure di chiusura al traffico soprattutto nei mezzi pesanti in via Venezia con quelle che possono essere tutte le sulla salute ma soprattutto la tutela di chi in quelle aree lavora e sperabilmente non veda in queste ordinanze un intralcio alle attività produttive.